Anche l'Hospice di Gela aderisce all'iniziativa nazionale per celebrare questa giornata che è dedicata ad un santo che per ben due volte donò il suo mantello. Questo è davvero significativo? Sì, oggi è la giornata del malato, perché tutti gli hospice ogni anno, l'11 novembre, ricordano questo santo che col pallium, col mantello, come dicevi tu, è sceso e ha dato aiuto e sostegno alla gente sofferente. La stessa cosa fanno gli hospice, perché le cure palliative prendono il malato in cura, e non solo in cura, ma seguono anche un percorso di umanizzazione, cioè un rapporto insieme alle famiglie, insieme a tutti quelli che sono all'interno di questa struttura, per cercare di migliorare quella che è la qualità della vita dei nostri pazienti. E noi siamo felici perché finalmente le strutture sanitarie si aprono alla città. Da dove è nata l'idea di sostenere l'iniziativa? Noi promuoviamo tutto quello che può servire, può servire quindi alla città, può servire in questo caso anche a questa struttura. Noi veramente siamo ben contenti di essere qui, tutte qui, in questa realtà, questa realtà che abbiamo veramente trovata, accogliente, eccezionale, anche se, ripeto, cioè in una realtà è quella di questi malati, però ho sentito anche dalle loro parole, dalle parole dei malati, loro stessi, dalle famiglie, che si sentono bene qua dentro, si sentono bene, hanno proprio, si sentono incoraggiati e noi vogliamo partecipare, vogliamo partecipare in questo senso. Questo è un reparto un po' particolare, il rapporto che si instaura con i pazienti è un rapporto diverso, un rapporto più umano forse che professionale. Certamente, qui si nota esattamente quello che lei ha descritto, l'umanità. Io non mi stancherò mai di ringraziare il dottore Alario che ha battuto per anni questo discorso, di creare questo reparto di accoglienza per questo genere di malati. e quindi io lo ringrazio non solo come medico, collega quindi del dottore Alario, ma soprattutto come cittadina, perché non dimentichiamo che l'ospedale è di tutti. Questo è un servizio, un'unità operativa che è stata creata per tutta la nostra comunità.